Buonasera a tutti, buonasera, mi chiamo Daniele Federico, sono responsabile sviluppo Italia di S&G Group. S&G Group è un'eccellenza trevigiana, come tutti voi. Ci occupiamo di proteggere la vita di milioni di italiani a loro insaputa. Noi siamo il primo franchising in Italia nel mondo delle delatizzazioni e delle disinfestazioni. Ci occupiamo solo ed esclusivamente di servizi di pest control e addirittura ci pregiamo di essere il primo franchising in Europa del settore. Alcuni numeri. Con 16 mila anni in Italia troviamo tutelmente le regioni, 70 tecnici, 7500 interventi al mese, per dare in modo a supermercati, alberi, ospedali, case di cura, condomini, scuole e parchi, di essere liberi da qualsiasi tipo di infestante. Noi ci siamo dati uno slogan che è Your Life Protect, la vostra vita protetta, perché effettivamente da 40 anni proteggiamo la vita dei milioni di italiani. Grazie.